buongiorno paolo di youtube dopo 6-7 mesi di studio ho creato il metodo dell'ambo uguale parte 2 quindi un ambo di lì e un ambo di qui si possono tranquillamente mettere insieme ma sono sempre due giocate separate un saluto alla rebecca da ricevedoria di via tagliamento a bellino questo è il nuovo metodo dell'ambo uguale parte secondo visto il successo che ha avuto la parte prima questa è la seconda metodologia ovviamente sarà per poche persone già lo sapete io come la penso e vi ricordo mandare solo messaggi su whatsapp al numero 340 157 67 75 ovviamente quelli che sono stati cancellato possono mandare un sms da leone tutto auguri per questa nuova metodologia ciao